pensiero personale un podcast di parole di management ben trovati a questa nuova puntata di pensiero personale il programma che racconta l'attualità attraverso il confronto con la direzione risorse umane ospite della puntata di oggi è sergio turco e dove i char di auto uno group la piattaforma b2b per l'acquisto e la vendita di auto usate più grande in europa grazie per aver accettato il nostro invito grazie a voi nell'ultimo anno molte aziende hanno sperimentato lo smart working anche voi avete preferito questa modalità di lavoro agile come avete vissuto i processi di assunzione e affiancamento da remoto in questa fase e in che modo lo smart working ha influenzato il vostro approccio al recruiting ok allora diciamo che noi ci siamo trovati un po no all'inizio quasi spiazzati da questa modalità di lavoro perché l'azienda nonostante sia giovane sia d'età che sia l'età grafica dal punto di vista delle persone che la compongono anche dal punto di vista proprio della dell'azienda il gruppo non credeva tanto nello smart working per perenne motivi insomma i founder non erano molto avvezzi a questo tipo di lavoro e quindi ci siamo trovati per forza di cose insomma a causa della pandemia a dover affrontare questa nuova modalità di lavoro devo essere sincero non tutti gli stessi due non tutti gli dipartimenti hanno reagito allo stesso modo la stessa maniera e però insomma il dipartimento HR ha avuto un ruolo fondamentale in questa nell'implementazione di quelle che potessero essere poi le policy di smart working e quelle che erano obbligatorie per certi versi perché dopo il lockdown insomma alcune funzioni hanno lavorato praticamente totalmente alcuni dipartimenti hanno lavorato totalmente da remoto come quello delle risorse umane e io devo dire che mi posso ritenere veramente fortunato perché le persone che hanno fatto cioè fanno parte del mio dipartimento hanno lavorato benissimo addirittura il recruiting ha lavorato anche meglio perché si sono potuti concentrare nelle stanze delle proprie case sul lavoro e non hanno non avevano altre distrazioni è chiaro che poi a lungo andare questo tipo di lavoro per mesi e mesi diventa un po' alienante adesso abbiamo ripreso a frequentare nuovamente gli uffici l'headquarter a Milano però diciamo un po' più col contagocce rispetto a prima perché insomma la situazione pandemica è quella che è ancora oggi anche se andiamo incontro insomma al periodo estivo con il caldo insomma come l'anno scorso la curva dei contagi si è ridotta però insomma noi prestiamo sempre molta attenzione a questa cosa qua nell'attesa di capire un po' quali saranno gli sviluppi nei prossimi mesi grazie anche per la campagna vaccinale quindi quanto si potrà tornare a rifrequentare a pieno regime o quasi a pieno regime gli ambienti lavorativi questo per quanto riguarda le funzioni chiaramente di headquarter che possono svolgere il proprio lavoro a distanza per tutte le altre che chiaramente non potevano svolgere il proprio lavoro da remoto parlo chiaramente dei purchaseer o dei service assistant nelle filiali dove acquistiamo le auto o nelle filiali dove facciamo il ripristino delle auto per la vendita al privato chiaramente in quelle occasioni abbiamo definito dei protocolli sanitari molto rigidi che vengono rispettati rispettando appunto distanziamento abbiamo cambiato un po' quelle che sono i regolamenti e quella che è la policy aziendale da questo punto di vista certo chiarissimo il recruiting che ha citato appunto poco fa è proprio un tema centrale per voi oltre alle offerte di lavoro in presenza di recente avete reso disponibile per il mercato europeo posizioni esclusivamente da remoto team di lavoro ibridi? allora abbiamo ci sono dei team di lavoro ibridi assolutamente sì a livello europeo ne abbiamo anche abbiamo lanciato da pochissimo è proprio veramente una cosa di qualche settimana fa abbiamo lanciato il lavoro da remoto totalmente da remoto per delle posizioni specifiche che sono quelle dei programmatori perché l'azienda insomma quindi sono software engineer o java developer via discorrendo che sono chiaramente posizionati principalmente in in germania e in altri due punti in europa tipo in in romania e in bulgaria ma adesso attualmente stiamo anche cercando persone che provengano da tutta europa in buona sostanza e che potranno svolgere il proprio lavoro comodamente da casa propria quindi per esempio in passato avevamo un ufficio a milano che poi non ha avuto insomma il successo che si sperava potesse avere soprattutto anche dal punto di vista dei costi perché in germania insomma queste figure qui c'è un'altra competizione tra le varie società le nuove le tutte le start up che ci sono a berlino e quindi si sperava che milano potesse essere una una valida alternativa anche dal punto di vista del costo del personale ma in realtà così non è stata perché milano comunque abbastanza costosa anche e adesso invece ci stiamo rivolgendo a persone che provengano da tutta europa anche l'albania che è una delle nazioni che io seguo potrebbe essere chiaramente un ottimo mercato sul quale investire ma anche in italia per esempio gente che desidera lavorare totalmente smart working magari dal sud italia dal centro italia insomma da qualsiasi parte d'italia si provenga o paese se sarà possibile svolgere questo tipo di attività per le figure invece di headquarter ancora non siamo pronti al 100% di headquarter italia chiaramente non siamo pronti al 100% a assorbire o avere questi team ibridi di gente che lavora o gente che lavora o totalmente smart working o in presenza però diciamo la via di mezzo con qualche giorno di smart working a settimana assolutamente sì tant'è che abbiamo stiamo promuovendo proprio in questi mesi una policy di work from home a livello europeo chiaramente calata in modo differente tra le varie funzioni ai vari paesi grazie sì diciamo che milano non è stata all'altezza è stata troppo all'altezza diciamo rispetto a berlino dal punto di vista dei costi però insomma ci muovevamo in un mercato differente quindi era pre covid pre pandemia quindi oggi insomma credo che ci sia anche più flessibilità mentale da parte dell'azienda stessa degli attori principali dell'azienda stessa nell'accettare insomma qualcuno che possa lavorare totalmente da remoto ed è una cosa sicuramente importante fondamentale che che ci ha portato una novità chiaramente che ci ha portato questa pandemia se vogliamo trovare qualcosa di positivo insomma nella negatività della pandemia. La tecnologia è entrata a pieno regime nella gestione dell'HR e anche nei processi di recruiting aziendali come abbiamo visto con nuove metodologie legate alla digitalizzazione qual è stata nello specifico la vostra esperienza? Assolutamente allora noi già utilizzavamo quello che adesso si utilizza largamente praticamente per tutti i colloqui che sono le varie piattaforme Gmeet, Zoom o via discorrendo per fare i colloqui perché ormai la maggior parte dei colloqui soprattutto per la parte relativa ai recruiter la facciamo tutta da remoto noi già la facevamo in parte perché abbiamo una sessantina di filiali sparsi su tutto il territorio nazionale quindi era impensabile far muovere i recruiter tra le varie città d'Italia e quindi già utilizzavamo quella metodologia che chiaramente non abbiamo dovuto far altro che estenderla a tutte le funzioni, è anche chiaro che alcune funzioni poi erano differenti perché prima le utilizzavamo solo su due figure professionali che erano quelle del purchaser quindi quello che acquista le auto del service assistant che è quello che si occupa di tutta la parte di back office in buona sostanza all'interno delle filiali. Poi l'abbiamo estesa tutte le funzioni a cominciare dallo stagista fino ad arrivare alla posizione di director che solitamente è quella più alta all'interno dell'organigramma aziendale. Oltre chiaramente questo strumento che ormai è largamente utilizzato ce ne sono altri come abbiamo per esempio creato degli ATS interni, un ATS interno che permetta insomma di inserendo delle parole chiave di fare uno screening dei curricula automatizzato testato chiaramente su più funzioni e più figure, aiuta soprattutto quando c'è abbondanza di candidati o quelle posizioni per le quali si applica il mondo e tantissima gente purtroppo non legge quelle che sono le richieste da parte dell'azienda ma applica giusto perché deve applicare e riusciamo a fare un buono screening dei curricula e questo aiuta sicuramente il recruiter nell'ottimizzare i propri tempi di lavoro. È chiaro però che l'ATS io lo vedo come uno strumento di supporto ma che non riuscirà praticamente forse probabilmente mai il recruiter perché comunque il recruiter ci mette del suo e riesce a valutare delle caratteristiche che solo attraverso praticamente un colloquio e anche semplicemente una chiamata tra due persone quindi bisogna avere un po' quella parte empatica assolutamente che uno strumento, un computer o un ATS assolutamente non possono avere. Certo manca quel fattore umano che è fondamentale. Non ci chiameremmo più risorse umane altrimenti. Parlando di attualità di recente è stato dichiarato su alcune testate che in Europa i laureati italiani sono tra i meno pagati. Cosa ne pensa riguardo? Allora ho letto un po' di articoli effettivamente tante testate poi c'è qualcuno che ha preso Spezzoni l'ha messo sul proprio sito altri che avevano invece preso l'articolo per intero. E' purtroppo una triste verità, questo è chiaro, bisogna anche un po' vedere non soltanto… Allora io chiaramente da addetto alle risorse umane e a quello che è anche il payroll vedo sempre un po' quello che è il costo per l'azienda di un dipendente. Perché è vero che veniamo paragonati a paesi come la Spagna che sono molto simili a noi, che i neolaureati guadagnano più o meno quello che è la retribuzione intorno ai 28 mila Euro se non ricordo male per gli italiani, però il costo del lavoro per esempio in Spagna è molto più basso se ci mettiamo sopra tutta la parte contributiva. In Italia sappiamo bene che on top al costo dei 28 mila Euro bisogna aggiungere tra il 38 e il 39% in più praticamente, che si aggiunge sull'ordo, che sono contributi, TFR e via discorrendo. Quindi la questione qual è? Che è vero che se ci paragoniamo a Germania dove lo stipendio medio per un neolaureato è addirittura di 50 mila Euro, non reggiamo il confronto in assoluto. Però c'è da dire che se prendiamo il costo azienda, i 28 mila Euro salgono tanto e in Germania magari ci sono delle politiche anche attive che supportano. Questo è quello che un po' forse manca dal punto di vista dello Stato che è mancato negli ultimi periodi in cui si sono succeduti tanti governi ed è il mio auspicio che si riescano a fare delle politiche attive per i giovani, soprattutto in un periodo come questo qui che ci prepariamo ad affrontare. Perché adesso comincerà la stagione dei licenziamenti a breve e quindi per tante aziende purtroppo. E questo sicuramente il governo si deve far trovare pronto con delle politiche attive che possano assolutamente supportare sia il giovane che entrerà in un mercato molto più competitivo. Perché non ci sarà solo lui a cercare lavoro ma ci saranno tante persone che magari l'avranno perso e questo sarà fondamentale appunto, mi ripeto, la presenza dello Stato. Poi chiaramente lo Stato può sicuramente e assolutamente deve investire di più ancora sulla formazione. Andrò in contrasto probabilmente con qualcuno, ma io penso che l'università sia quasi paragonabile ad un'azienda che produce un bene. E se il bene prodotto viene largamente maggiore rispetto alla domanda del mercato del lavoro, immagino i laureati in giurisprudenza per esempio, è un esempio che chiaramente non ho nulla contro i laureati in giurisprudenza, ne vengono prodotti tantissimi. Probabilmente quando andrò contro tantissimi servirebbe un controllo da parte dello Stato che magari controllando quelle che sono le iscrizioni o la produzione di gente che si laurea all'anno in un determinato ambito e poi magari siamo carenti su altri che oggi sono settori trainanti come lo STEM per esempio e quindi bisognerebbe incentivare per certi versi anche il ragazzo diciottenne, dicianovenne che si sta diplomando proprio in questi giorni, tantissimi giovani si stanno diplomando che si devono interfacciare alla scelta, con la scelta di cosa farò da grande. Sicuramente lo Stato potrebbe fare delle politiche di orientamento soprattutto dei ragazzi insieme alle scuole, insieme alle università, chiaramente quelle che sono le istituzioni principali per poter indirizzare un giovane verso un ambito di studio che gli possa dare la possibilità tra 3-5 anni, quelli che saranno insomma in base a quello che è l'ambito di lavoro e di accademico di poter trovare un lavoro abbastanza celermente e non di dover guardare sempre e solo esclusivamente all'estero come effettivamente succede da ormai 7-8 anni a questa parte, io sono stato anche uno di quelli che i primi lavori li è andato a svolgerli all'estero, sono stato in Spagna, sono stato in Inghilterra e poi sono tornato in Italia perché insomma io credo tanto nel sistema Italia ancora, forse sono uno dei pochi e abbiamo grandissime possibilità secondo me, se solo chiaramente lo si vuole e ci si rimbocca le maniche. Ho lasciato il Sud per esempio perché non c'era tanto, quindi mi sono trasferito a Milano da ormai 6 anni, però stiamo parlando sempre di sistema Italia e chissà un domani magari riuscirò anche a coronare il sogno di ritornare a lavorare nella città che mi ha dato il Natale, dove sono cresciuto, che è Bari appunto in Puglia. Quindi insomma volere potere, come si dice, risulterò anche un po' banale in questa affermazione, però… No, no, assolutamente, anzi speriamo. Esatto, se si vuole sia dal punto di vista personale, col sacrificio si può ottenere, nessuno ti regala niente e se qualcosa viene regalato sicuramente c'è una mezza fregatura dietro. L'altra cosa è chiaramente adesso che ci sono tutti questi fondi messi a disposizione da parte dell'Unione Europea, bisogna spenderli nel modo corretto e sicuramente bisogna investire sui giovani e io ne sono fortemente convinto di questo perché chiaramente è un ruolo all'interno dell'azienda che mi porta a dover fare questo tipo di pensieri e poi anche dal punto di vista familiare ho mio nipote che si è appena diplomato quest'anno e quindi è un po' vivo il suo dubbio nel dire cosa fare e quindi perché chiaramente non c'è tantissima chiarezza, non c'è una certezza di quel che si può o non si può fare, di quel che sarà il mercato fra 5-6 anni, possiamo avere un'indicazione ma non sarà chiaramente quella per forza e insomma non dico che a volte bisogna andare un po' occhi chiusi, ma bisogna credere tanto nel sistema, nel sistema Italia che sicuramente può fare ancora di più e in se stessi, questo è fondamentale sicuramente. Sicuramente bisogna provarci. Assolutamente. Grazie a Sergio Turco per essere stato con noi oggi. Grazie a voi per avermi invitato. Appuntamento alla prossima puntata, a presto. Arrivederci.